Scommetto che non conosci tutte le gomme e il loro utilizzo. Questa è la gomma siliconica e serve per cancellare il trattonetto della matita. Per cancellare il chiaroscuro sfumato serve la gomma pane che è una gomma morbida che si usa tamponandola sul foglio o strisciandola su di essa e poi decidere il grado di esportazione del colore. Se vuoi invece una lumeggiatura bianchissima utilizza la gomma elettrica. Una gomma montata su una penna elettrica che roteando strisciandola sul foglio riporterà il foglio al bianco iniziale. Una bella lumeggiatura la dà anche la gomma matita che strisciata sul foglio porterà fuori il bianco della base del foglio. Esiste anche la gomma rossa e blu dove la parte rossa serve per cancellare la matita dal foglio mentre la parte blu serve per cancellare la matita dalla terracotta e dal legno e da superfici dure. Lo sapevi?